Per Silvio Berlusconi che è un po' l'azionista principale della sua maggioranza, lei ogni quanto lo sente? Per esempio su cose importanti come oggi sulle Olimpiadi, l'ha sentito prima di dire il suo no alle Olimpiadi? L'ha consultato? Guardi mi ha chiamato oggi lui, forse presentiva uomo di comunicazione com'è, oltre che uomo politico e di governo, forse presentiva che lei mi avrebbe fatto questa domanda. Non lo sapevo. Anche se questa mi sembra una televisione diversa, se non confondo. Ci sentiamo spesso, poi gli ho riferito del viaggio in America, abbiamo parlato anche di Olimpiadi, ma una telefonata è sempre una cosa riservata, in Italia non sempre, ma io penso che dovrebbe esserlo, quindi non vi dirò i contenuti, ma comunque trovo appoggio, simpatia, consiglio, come capita evidentemente anche, ma quelli non sono ex Presidenti del Consiglio, con i tre segretari... Ma non sento che...